Buone notizie per i viaggiatori abruzzesi, si riducono i tempi di percorrenza tra Pescara e Roma, ma non solo, ci sono buone notizie in generale per il trasporto su rotaia nella nostra regione? Credo che questo sia l'atto di programmazione più importante della regione Abruzzo in materia del trasporto pubblico locale. I cittadini col servizio pubblico locale saranno condotti alle stazioni e dalle stazioni potranno raggiungere qualunque posto in Abruzzo e qualunque posto in Italia attraverso poi la funzione hub di Pescara. Dentro questa partita contro l'Italia abbiamo ottenuto altri importanti risultati come gli investimenti sui treni, come il collegamento veloce con Roma, come finalmente la possibilità di portare le bici in treno. Insomma, questa regione a due anni e qualche mese dal suo insediamento rivoluziona completamente il modello del trasporto ferroviario in Abruzzo. Un nuovo modello che è caratterizzato da quelli che sono servizi regolarizzati sulla triatica con una tipologia di servizio cadenzato ed una velocizzazione sull'asse romano con una diminuzione dei tempi di percorrenza del collegamento Pescara-Roma che ci permette di arrivare dagli attuali tempi di superiore alle 4 ore a tempi di 3 ore e 22 minuti. Questa cosa, unitamente al fatto che non si arriva più a Roma Tiburtina, bensì a Roma Termini, quindi nel cuore della capitale, permetterà in particolar modo a quelle che sono le utenze massicane di avere un collegamento che avvicina l'intera Marsica a quella che è la capitale d'Italia. Si parla anche di metropolitana di superficie? Sì, il cadenzamento ci permette di ottenere quella che viene denominata metropolitana di superficie, ovvero collegamenti ferroviari nell'intorno di 30 minuti. Quindi si avrà la possibilità ogni 30 minuti di avere un servizio ferroviario che permetta di collegare Pescara con tutte quelle che sono le conurbazioni agriatiche. Sarà interessata anche tu a questa rivoluzione? Sì, perché noi stiamo parlando di un modello di 5 milioni e 100 mila chilometri. Diciamo che un milione di chilometri, 930 mila chilometri, sarà fatto da ex-Sangritana Oggi Tua. L'altra parte restante, quella più cospicola, da Trenitalia, ma con una differenza, che per la prima volta Trenitalia e San Gritana, Trenitalia e Tua, avranno un unico modello, lavoreranno insieme, si integreranno e nel futuro, anche con un unico titolo di viaggio, il cittadino potrà salire e scendere da qualunque treno, O Tua o Trenitalia, senza alcuna differenza.